Per quanto riguarda i vulcani siamo a pagina 242 del libro Discipline e abbiamo qui questa immagine che rappresenta, si chiama una sezione, una sezione che vuol dire dovete immaginare che su un vulcano ci sia una specie di taglio che lo tagli praticamente a metà e ci faccia vedere un po' come è dentro. Ovviamente questa cosa non è possibile nella realtà, per fortuna, però questa rappresentazione ci fa vedere come è fatto un vulcano al suo interno. Allora, la prima cosa che vediamo è questo fuoco in basso che viene direttamente dal centro della Terra. La Terra, sapete, è fatta a strati, la parte più esterna, quella in cui siamo noi, si chiama la crosta terrestre, un po' come la crosta del pane. E come per quanto riguarda il pane, la crosta è soltanto la parte di fuori, la parte esterna, così anche la crosta terrestre è soltanto un piccolo strato di quello che c'è nella Terra sotto, nella superficie, sotto la superficie terrestre. Sotto la superficie c'è un bello strato di lava. Tra noi, la crosta e questo strato di lava ci sono altri strati in mezzo, quindi non vi preoccupate, c'è uno strato chiamato il mantello e così via. Questo qua è lo strato di lava che sta ben sotto la crosta terrestre, però dovete immaginare come se all'interno di questa arancia, che può essere la Terra, come se al suo interno ci fossero appunto questa parte liquida e infuocata. Questa parte liquida e infuocata è chiusa da una specie di guscio, però questo guscio ha, come dire, delle spaccature. Quindi è un po' come quando c'è un liquido che sta chiuso dentro un contenitore, questo contenitore ha delle brecce, delle fessure, da quelle fessure passano parti di liquido. La stessa cosa avviene nella Terra, cioè praticamente questo liquido infuocato attraverso alcune parti della Terra riesce a penetrare fino alla superficie terrestre e così si crea strada piano piano finché trova un'apertura nel terreno da cui riesce a uscire. E questo qua forma i vulcani, cioè praticamente quando la lava esce, butta del materiale al suo esterno, questo materiale piano piano si deposita, si raffredda, diventa più, diventa duro e così viene a formare questa forma qui del vulcano. Cioè dovete immaginare che esce tutto questo materiale, quello che si deposita viene a formare il vulcano. Il vulcano esce dal cratere, che è un po' come dire il camino da cui esce il fumo nelle case, così il cratere è quello da cui esce la lava, che passa attraverso proprio il camino, che è questo, la parte superiore del vulcano. E questa parte qui è infuocata e si chiama lava. Questa lava che poi si raffredda, solidifica e dà la forma al vulcano stesso. Ci sono diversi tipi di vulcani. Se lo vedete, questo qua, di cui vi ho fatto vedere il documentario, si chiama Etna. E' il vulcano più alto che c'è in Europa, è alto più di 3000 metri, tanto è vero che la cosa molto bella, una cosa bella, è anche che una delle sue bellezze è il fatto che, vedete, c'è addirittura la neve, quindi c'è questa strana convivenza, coesistenza di fuoco e neve, perché siamo a 3000 metri, lì fa freddo, quindi anche se c'è il fuoco, tutto sommato fa freddo, tanto deve esserci la neve. Vedete, l'Etna che è forma A, ha una forma, non è molto appuntito, è molto largo. Questo perché? Perché la lava che esce dall'Etna non esce in maniera, come si dice, esplosiva, ma esce, come dire, un po' alla volta. E' questo fatto, il fatto che la lava dall'Etna esca un po' alla volta, è quello che lo rende un po' meno pericoloso rispetto ad altri vulcani. Perché? Perché uscendo un po' alla volta, diciamo che non ti prende all'improvviso, e quindi le persone che abitano vicino all'Etna fanno anche in tempo a mettersi in salvo dall'arrivo della lava. Invece ci sono altri vulcani che sono di tipo esplosivo, cioè le loro eruzioni avvengono innanzitutto in maniera un po' più improvvisa. L'Etna, diciamo, che avverte un po' prima di esplodere. Queste altre eruzioni di altri tipi di vulcani avvengono in maniera un po' più improvvisa e soprattutto in maniera esplosiva, cioè non esce la lava, come dire, piano piano, ma esce in maniera un po' più forte, un po' come quel video sullo Stromboli che vi avevo fatto vedere in classe. Lo Stromboli è un altro vulcano che, come l'Etna, si trova sempre in Sicilia. È appunto un vulcano di tipo esplosivo. Diciamo che non crea molti danni perché sta in un'isola, in un'isola anche molto poco abitata, però diciamo che le persone che abitano lì ogni tanto sanno che questo vulcano dà segni di una certa impazienza, come dire. E invece c'è un altro vulcano in Italia molto importante chiamato Vesuvio, che in parte vi rispondo alla domanda che vi dice qui sotto. Qui fa la distinzione tra vulcani attivi, vulcani spenti e vulcani a riposo. Cioè vulcani attivi sono quei vulcani che hanno proprio un'attività esplosiva, cioè che hanno delle eruzioni come appunto l'Etna, come lo Stromboli, cioè che a volte, o diciamo in continuazione, o a volte, però hanno delle eruzioni abbastanza continue. Ci sono invece vulcani che sono completamente spenti, che ormai hanno esaurito, non c'è più il magma, è finita quella parte e quindi quel vulcano è spento. Magari è rimasta soltanto la forma e da quei vulcani studieremo anche in geografia che a volte sono talmente tanto spenti, cioè che non c'è più nessuna attività, nessun fuoco, che si riempiono d'acqua e diventano dei laghi. Qui nel Lazio è una zona che è molto piena di, nella regione Lazio, è molto piena di laghi che erano in passato, nei tempi antichi, erano vulcani. Quelli sono vulcani completamente spenti, cioè che non potranno, proprio non c'è più il magma, non c'è più lava e quindi ormai non esploderanno più. E invece ci sono vulcani a riposo, che sono vulcani invece che magari non eruttano, questo è il verbo che si usa, per tanti anni, però poi all'improvviso riesplodono. E il Vesuvio che sta a Napoli, questo qui in fotografia, è uno di questi. Il Vesuvio è un vulcano che erutta poche volte nella storia, però quando erutta, diciamo, fa abbastanza danni. L'ultima volta che il Vesuvio è eruttato è stato circa 76 anni fa, nel 1944, però studierete in storia che c'è stata una eruzione molto famosa, quasi 2000 anni fa, nel 79 d.C., ha distrutto completamente una città chiamata Pompei. Questa cosa la studierete in storia, in, credo, sì, in quinta. Sì, in quinta. Niente, comunque, per finire, quindi, i vulcani sono fatti così, questa è la loro sezione, c'è il magma che spinge dal centro della Terra per uscire in superficie, si crea strada, esce dal, passa dal camino, che è questa parte qui, esce dal cratere e fa fumo. E viene fuori la lava, che man mano solidifica. E poi esistono vulcani attivi, cioè che eruttano in continuazione, vulcani a riposo, cioè che magari non eruttano per tanti anni, però a volte possono uscire, e infine i vulcani spenti, che sono quelli in cui non c'è poco più lava. Allora, per, come studio, vi fate una lettura di questa pagina e poi vi leggete anche quest'altra pagina qui, che è semplicemente una lettura, non c'è nulla da capire, sono alcune delle montagne più famose d'Italia, che poi studeremo meglio quando faremo la regione d'Italia in quinta. E per il momento è tutto e buona giornata.